Buongiorno a tutti, sono qui che sto lavorando per il canale e come potete vedere ho anche cambiato scrivania Ben ritrovati sul canale, bentornati a tutti e visto che siamo in settembre ormai Stanno ricominciando tutte le cose bene o male come iniziano a settembre e anche io riprenderò a far video Quindi cosa c'è da fare adesso? C'è da iscriversi al canale e seguire tutti i video che usciranno da qui in avanti Quindi se non siete iscritti iscrivetevi subito, che è importante, e per rimanere aggiornati sul canale Perché comunque usciranno tantissimi video, molto interessanti soprattutto, che riguarderanno, adesso ve lo dico subito Ci saranno vlog, perché ho deciso di portarne molti di più dell'anno scorso Poi oltre a quello ci saranno video sull'immagine, quindi correlati più al blog E' iniziata oltretutto la mia consulenza, quindi è aperta la mia consulenza, andate sul blog per richiedere una consulenza d'immagine Se seguite il mio blog alessiumalavasi.com, cliccate su consulenza d'immagine e mi contattate tramite il form Io vi ricontatterò Oltretutto ci saranno anche sul blog appuntamenti più continuativi, quindi una volta a settimana come minimo uscirà un articolo Una diretta a settimana dove io cercherò di esserci per rispondere a quello che mi chiederete Quindi inerenti a quello che faccio, a quello che è la mia vita Dopo devo vedere se farlo tramite Instagram o tramite Youtube Cercherò di portare anche molte recensioni di libri che leggerò Oltretutto qua me ne sono arrivati alcuni che devo leggere ancora Penso di avervi già detto tutto Vi aspetto il giorno, fatemi controllare dal computer Il giorno 20 settembre Che uscirà un nuovo video Che non vi dico su che cos'è, ve lo andate a vedere poi quando esce L'avevo girato quest'estate, però non sono riuscito a montarlo Perché, perdonatemi, ho 15 ore di lavoro Dopo non penso che Tornati a casa voi abbiate voglia di montarvi un video Comunque questo è quello che ho fatto Lo carico dopo, ho detto che lo carico in settembre Tanto visto che comunque molti ad agosto siete tutti andati in ferie Quindi ho pensato di caricarlo a settembre Vi saluto Vi aspetto Iscrivetevi sul canale Alessio Malavasi Seguite alessiomalavasi.com Che è il mio blog Chiedete una consulenza di immagine subito E Instagram AlessioMalo98 Per rimanere aggiornati magari in diretta Perché comunque molte cose sono in diretta Anche così Tac E niente Spero di avervi detto tutto Ci vediamo alla prossima Ci vediamo giovedì Come ho detto prima 20 settembre Che uscirà un nuovo video Ciao a tutti